Da qui si parte, tra vecchie glorie e vere e proprie new entry, per certi versi clamorose, chiuse le parlamentarie, rigorosamente online, anche il Movimento 5 Stelle ha i suoi nomi, per la Camera nel Collegio Veneto 1 la più votata e risultata Cristina Manes con 353 voti. Originaria di Matera è stata candidata a sindaco nel 2014 a Mogliano Veneto, dove portò a casa circa il 12% dei consensi. Sarà quindi lei la capolista, a seguire la veneziana Elena Quaranta, terzi a pari merito il trevigiano Maurizio Mestriner e Francesca Rossi, architetto mestre. Nella lista anche l'ex sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. Per il Collegio Veneto 2 il più votato è stato Enrico Capelletti, volto tra i più noti del Movimento e già candidato governatore anti-Zaia nel 2020. Sarà quindi capolista, seguito dalla Vicentina, Sonia Perenzoni, indizza anche il padovano Giacomo Cusumano. Per il Senato la posizione di vertice sarà occupata dalla senatrice uscente Barbara Guidolin Bassanese, che ha conquistato 976 voti, seguita dalla collega di Mirano Orietta Vanin. Resta da capire se e come interverranno il leader politico Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo. E questo nel giorno in cui gli ex alleati democratici presentano il piano giovani. A Roma con Enrico Letta anche la trevigiana Arachele Scarpa, individuata come capolista alla Camera. Salario minimo, dote per i diciottenni, abolizione degli stage gratuiti, contributi per gli affitti, diritto allo studio, le azioni del programma DEM. Perché c'è un tema molto grosso in Italia in questo momento ed è un tema di accesso al diritto allo studio, che non è assolutamente garantito e ancora oggi dipende troppo da dove nasci e in che condizione economica sei, dal tuo punto di partenza. Sempre a sinistra Europa Verde rilancia i temi dell'energia e la necessità di tassare totalmente gli extra profitti dei colossi. La proposta che noi portiamo avanti è quella di tassare al 100% gli extra profitti, cioè quello che in più guadagnano, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà per via dell'energia. E siccome settembre sarà un bagno di sangue in termini di costo delle nostre bollette dell'energia che consumiamo, è evidente che dobbiamo intervenire nell'immediato così e andare poi verso una produzione autonoma e locale di energia.